Sì, ciao a tutti, allora il nostro prossimo speaker è Enrico, Enrico è del Pug di Torino, faccio una breve anteprima di chi è il Pug Torino e come è nato, un po' di storia insomma. Allora il Pug Torino nasce nel 2011 dopo una cena in pizzeria tra pochi curiosi, dopo i primi incontri il gruppo cresce notevolmente di numero al punto di decidere anche di organizzare le vere e proprie conferenze a livello nazionale. Negli ultimi anni si sono organizzati diversi meet up e la frequenza generalmente è quella di mostrare affrontando tematiche differenti anche non solo necessariamente PHP. Si trovano prevalentemente presso la sede del toolbox di co-working di Torino che lì ho subito e ha una capienza di una sala di circa un centinaio di persone. Detto questo do appunto come ha fatto Giulia il benvenuto a Enrico che ci parlerà dell'anteprima delle novità del PHP 8. Allora grazie, grazie della presentazione. Faccio un attimo lo share. Ok, riuscite a vedere il mio... Sì. Perfetto. Allora, la mia presentazione di oggi è sulle novità del PHP 8, che è appunto la prossima versione del PHP e dovrebbe uscire a fine anno. Due parole su di me, sono uno sviluppatore di vecchia data, lavoro in ambito open source da diversi anni, almeno dal 2007 e lavoro attualmente per Elastic, la società che è dietro Elastic Search. Sono uno dei coautori di progetti Zenframo, Capigility e Expressive, anche se non faccio parte più appunto del progetto al momento, però faccio parte del progetto PHP Fig, quindi è il gruppo di persone che cercano di dare, diciamo, degli standard, di proporre degli standard per lo sviluppo di librerie e framework in PHP. Ho fatto diversi talk, anche un TEDx sulla programmazione creativa, poi metteremo ovviamente le slide condivise, quindi potete dare un occhio anche ai link, quando vedete appunto in uno slide il colore blu-azzurro, questo è un link, quindi voi potete andare a vedere il riferimento. Insegno anche programmazione in PHP all'ITIS Piemonte e sono l'autore del libro Sviluppare in PHP 7. Questa è l'edizione, qui nella slide è riportata la seconda edizione, con la copertina verde, che è aggiornata fino al PHP 7.4. Ultimo, ma non meno importante, come dicono gli inglesi, sono appunto il cofondatore del PHP User Group di Torino. Giusto due parole sul PUC Torino, anche se sono state già, è stata già anticipata, ovviamente facciamo parte dell'associazione GRUSP, fondata nel 2011, su Meetup abbiamo più di 440 membri, cerchiamo di riunirci una volta, barra due volte, ogni mese o ogni due mesi, a seconda appunto dei vari impegni personali e come detto abbiamo la fortuna di avere lo sponsor del Toolbox Coworking che ci ospita gratuitamente. Entriamo nel vivo del talk parlando del PHP 8. Allora, io oggi volevo proporvi, farvi vedere le novità principali, alcune delle novità principali del PHP 8. Ovviamente non abbiamo tempo per vederle tutte, anche perché visto che alcune sono ancora in votazione, sono ancora in lavorazione, non si sa se verranno inserite o meno nel PHP 8, quindi non possiamo per motivi temporali sapere già come sarà effettivamente, cioè nessuno lo sa in questo momento. Abbiamo, diciamo, volendo stimare un 85% completo, ma c'è quel 15% ancora da decidere. Comunque le funzionalità di cui parleremo oggi sono sicuramente il Just-in-Time compiler, che è un po' la novità più importante, principale del PHP 8, Union type, lo static return type, le mappe deboli, le weak maps appunto in inglese, l'operatore classi sugli oggetti e le interfacce di tipo stringable. Poi vedremo di cosa si tratta. Allora, come ho già detto, la parte più interessante, la funzionalità, diciamo, più importante del PHP 8 è sicuramente il Just-in-Time compiler. Che cos'è il Just-in-Time compiler? È sostanzialmente un compilatore che viene eseguito a runtime, cioè quando il codice PHP viene interpretato, il Just-in-Time compiler può intervenire e convertire il codice, appunto, PHP direttamente in linguaggio macchina, senza passare per il bytecode. Quindi è uno shortcut, cioè una scorciatoia per fare in modo che il codice che viene, appunto, interpretato venga tradotto direttamente in linguaggio macchina e non in bytecode. Perché come sapete il bytecode è quel linguaggio intermedio che utilizza il PHP per avere una rappresentazione molto simile ad un linguaggio macchina ma che non può essere eseguita direttamente da una CPU. Mentre il linguaggio macchina è eseguito direttamente dalla CPU. Quindi Just-in-Time compiler è semplicemente un compilatore che lavora a livello di runtime. Per capire bene come funziona il Just-in-Time compiler bisogna parlare, appunto, del ciclo di vita di un'esecuzione di un programma PHP. Allora, fondamentalmente in questa slide sono riportati un semplice diagramma di flusso lineare, quindi partendo dall'alto verso il basso noi diamo in pasto uno script PHP all'interprete PHP. Queste sono le operazioni che vengono eseguite per poter eseguire il codice PHP che abbiamo scritto. Allora, il primo step è quello della tokenizzazione dove sostanzialmente il codice PHP viene suddiviso in vari token, in vari blocchi. Questi blocchi vengono poi utilizzati dal parser, che è un'altra appunto fase dell'interprete PHP, per creare l'abstract syntax tree, che è appunto un modello, come dice la parola stessa, è un albero sintattico che viene utilizzato poi per tradurre effettivamente il codice scritto in PHP in codice opcode e questo avviene tramite il compilatore. Quindi c'è una parte specifica del linguaggio che compila, partendo dall'abstract syntax tree, e traduce il codice in opcode. Quindi l'opcode è quello che poi in realtà viene eseguito dall'ultimo blocco, diciamo, di questo ciclo di vita, che è lo Zend Engine. Lo Zend Engine è un componente sviluppato dalla società Zend Technologies e lasciato open, quindi è pubblico, di dominio pubblico, per l'esecuzione del codice opcode. Quindi in realtà il codice che viene interpretato dal PHP è il codice opcode. Dopo essere stato tradotto, appunto tramite il parser, in un albero sintattico, il compilatore appunto lo traduce in opcode. Quindi quando si dice che il PHP è un linguaggio interpretato, in realtà quello che si interpreta è l'opcode. Ovviamente lo Zend Engine interpretando l'opcode genera ed esegue istruzioni direttamente sulla CPU. Questo quindi è il ciclo semplice diciamo di vita di un'applicazione PHP. Facciamo un esempio. Abbiamo un semplice script PHP, un ciclo for da 0 a 99 con la stampa un punto dei nomi. In opcode, questo semplice snipp code in PHP viene tradotto in questo modo. Come vedete ci sono delle istruzioni molto simili per chi di voi ha mai visto linguaggio Assembler, diciamo un linguaggio molto semplice in cui vengono eseguite micro istruzioni che sono assegnamenti, stampe, salti a istruzioni successive e così via. Per esempio volendolo leggere dall'alto verso il basso, ovviamente la prima istruzione eseguita è questa qui, la L0 e vedete qui c'è anche un numero 2 riportato tra parentesi. Questo indica qual è la riga dell'istruzione PHP corrispondente. Si parte da 1 nel senso che la prima linea di istruzione qui l'ho messa ma è il codice di apertura, il tag di apertura PHP, quindi minore punto interrogativo PHP. Quindi diciamo quella sarebbe la linea 1. Quindi la linea 2 in realtà è questa, l'inizio del ciclo for. E come sapete il ciclo for si legge in questo modo, si assegna il valore dollore i uguale 0, si fa la condizione, si testa la condizione e nel caso in cui sia vera si esegue quello che riporta nel ciclo for e poi viene eseguita come ultima operazione l'incremento. E poi nuovamente la condizione, l'esecuzione, incremento e così via, fin quando la condizione appunto è vera. Quindi la prima istruzione in questo caso è un assegnamento del valore dollore i a 0, quindi questa prima istruzione qui. Poi c'è un salto, vedete jump, jmp, alla istruzione L4, quindi sostanzialmente si passa a questa istruzione. Qui c'è la condizione, vedete qui riportata con questa macro is smaller, cioè va a verificare che effettivamente dollore i sia minore di 100. L'istruzione successiva è un salto condizionale, un jump nz, non 0, cioè salta se non è 0 il valore, quindi sostanzialmente quello che fa è qui, visto che appunto in linguaggio a basso livello non esiste il concetto di true or false, o meglio il concetto di true or false è 0 o 1 sostanzialmente, quindi questo salto condizionale simula appunto la condizione dollore i minore di 100 e quindi va l'istruzione L2 dove c'è, vedete, una echo, cioè una stampa, poi c'è un incremento, un pre-ink e poi di nuovo l'istruzione di condizione e così via. Quindi questo sostanzialmente è la traduzione di questo ciclo di PHP in un linguaggio, in questo opcode linguaggio simile a linguaggio macchina. Allora se siete curiosi, se siete domandando come abbia fatto io a generare questo opcode, in realtà il PHP offre un'istruzione nella linea di comando, una serie di parametri che ho riportato qui nella slide, in cui voi potete avere come risposta il codice opcode che il vostro script, il vostro programma PHP genera. Quindi quello che c'è qui è praticamente una serie di parametri con il parametro appunto a meno di una serie di opzioni, dove l'ultimo, quindi test.php è il nome del file in cui volete generare l'opcode. Quindi potete divertirvi a vedere cosa genera il vostro programma PHP tramite queste istruzioni. Questo potrebbe essere anche utile per ottimizzare, anche per cercare di capire banalmente il numero di linee di istruzioni opcode che il vostro codice PHP genera, anche se non è detto che la parità all'aumentare del numero di linee di codice dell'opcode aumenti, diciamo, di fa vedere quello che il vostro codice PHP genera a livello proprio di codice eseguito poi dall'azienda Engie. Ok, una cosa, ci stiamo avvicinando al discorso del just-in-time compiler, ci manca ancora un pezzetto che è questo dell'op cache. Come sapete in PHP, gli script quando vengono appunto compilati in opcode vengono anche messi in una cache, chiamata appunto opcache, una cache in memoria, in maniera tale che dalla seconda esecuzione in poi, se il codice PHP non è stato modificato, al posto di rifare da capo la tokenizzazione, il parsing e la compilazione per avere il codice opcode, io posso semplicemente leggere direttamente quello che avevo già tradotto in precedenza nella memoria RAM, quindi l'opcode presente in RAM e eseguirlo, quindi darlo in pasto all'azienda Engie. Quindi quello che succede è sostanzialmente uno script PHP, io mi chiedo se quello script PHP... del computer, quindi la lettura è abbastanza veloce, avviene appunto la lettura e viene eseguito direttamente dallo ZenEngine. Quindi vedete sostanzialmente sto bypassando tutte queste serie di step intermedi che sono appunto quelli di prima che abbiamo messo in precedenza, ossia la tokenizzazione, il parsing e la combinazione. Ovviamente quando eseguo la compilazione, quindi genero l'opcode, devo ricordarmi quindi quello che fa il PHP è scrive l'opcode nella memoria cache in maniera tale che dalla seconda esecuzione in poi, sempre appunto a patto che lo script non è stato modificato, l'opcode riesce appunto alla cache, l'opcode è presente nella cache e quindi si velocizza l'esecuzione. Come fa il PHP a capire che il sorgente non è stato modificato? Fa un semplice hash del sorgente, quindi fa un SH1 del sorgente e va a confrontare se appunto l'hash in memoria è uguale a quello calcolato a runtime. Quindi nel caso in cui siano uguali vuol dire che il sorgente non è stato modificato. Ok, arriviamo finalmente alla slide che introduce il just-in-time compiler. Come vedete la slide è abbastanza simile a quella precedente perché in realtà il just-in-time compiler lavora in simbiosi con il compilatore, con la fase diciamo di compilazione del PHP. E quindi facciamo il caso in cui io eseguo uno script PHP, lo script non è in cache, quindi non è nella op cache, quindi devo fare la prima volta l'autogenizzazione, il parsing e la compilazione. All'interno del processo di compilazione può intervenire il just-in-time compiler che prende delle porzioni prestabilite di codice e le traduce direttamente in linguaggio macchina. Quindi non utilizza la parte del compilatore per la generazione dell'op code ma genera direttamente il linguaggio macchina e questo viene scritto comunque nell'op cache. Quindi sostanzialmente l'op cache con il just-in-time compiler dovrà gestire due tipologie di dati. Uno è l'op code e l'altro è il codice macchina. Quindi una volta che sostanzialmente è stato generato, io la seconda esecuzione in poi l'avrò nella cache e quindi andrò a vedere se lo script che ho è stato già compilato o meno. Nel caso in cui non è stato compilato devo leggere l'op code dalla cache e darlo in passo allo zendash. Nel caso in cui sia stato già compilato in codice macchina posso farlo eseguire direttamente dalla CPU. Quindi vedete è un ulteriore, dal diagramma si capisce bene, sono appunto queste due condizioni ulteriori. Lo just-in-time compiler consente di bypassare anche l'esecuzione dello zendengine andando direttamente a eseguire il codice tradotto in linguaggio macchina sulla CPU. Qui è riportato lo stesso esempio di prima, codice quindi quel ciclo for da 1 a 99, abbiamo visto qual era l'op code e questo è quello che il just-in-time compiler produce. Quindi come potete vedere il codice prodotto, il codice macchina proprio direttamente seguibile dalla CPU è sicuramente più lungo rispetto all'op code che vi ho mostrato in precedenza. Quindi questo è esattamente lo stesso esempio. Anche qui, come ho fatto a generare questo codice macchina, ho utilizzato un'altra opzione del PHP a linea di comando che fa esattamente questo. Come vedete qui appunto ci sono vari parametri che adesso poi andremo un attimo a alcuni di questi a spiegare nel proseguo della presentazione, però sostanzialmente questo vi dà la possibilità di verificare, di generare direttamente il codice macchina per vedere appunto come funziona il just-in-time compiler con il vostro esempio. Vi ricordo che se avete delle domande potete utilizzare Slido, il sito sli.do, con il codice dell'evento che è PHP Day Pug Edition. Quindi poi se vi viene in mente qualche domanda scrivetela lì che poi nella sessione domande risposte proverò a rispondere se so la risposta ovviamente. Allora una cosa che ho detto durante la descrizione è che il just-in-time compiler lavora nella stessa fase del processo di compilazione. Questo però ho detto appunto che il just-in-time compiler può in qualche modo scegliere, deve scegliere quale porzione di codice tradurre il linguaggio macchina e quale lasciarla come cop code. Ma quindi come fa? Cioè come fa il just-in-time compiler a decidere che vuole per esempio tradurre una porzione di codice direttamente il linguaggio macchina? Lo fa attraverso una configurazione che ovviamente dobbiamo dare noi che installiamo l'ambiente. Quindi il just-in-time compiler lavora con questa configurazione chiamata CRTO. È sostanzialmente un numero di quattro cifre decimali, per esempio 1, 2, 3, 5, dove ogni numero rappresenta una configurazione specifica. Allora il primo numero, in questo caso 1, rappresenta la configurazione delle istruzioni AVX. Sono delle istruzioni diciamo avanzate, delle CPU moderne e ovviamente è un vantaggio utilizzare queste perché il codice macchina che viene eseguito è ottimizzato, quindi cerca di utilizzare delle istruzioni anche se può essere più lungo rispetto a una traduzione uno a uno, così come abbiamo visto con l'opcode. Avete visto appunto che il codice è generato in realtà dal codice macchina molto più lungo rispetto a quella pseudo-assembled che è l'opcode. Proprio perché dietro ci sono delle tecniche di ottimizzazione e quindi conviene, visto che appunto i compilatori moderni supportano questa modalità, avere sempre il valore uno per questa prima configurazione per il just-time compiler. Quindi il mio consiglio è quello di utilizzare sempre uno. Il secondo numero, che in questo caso è due, è la configurazione che dice guarda per favore utilizza i registri di allocazione per la gestione delle variabili delle variabili o parte diciamo delle variabili. Questa è un'altra ottimizzazione ulteriore perché a livello di diciamo di tempi di accesso, i tempi di accesso nei registri che sono delle memorie molto vicine alla CPU, ovviamente non sono grandissime, però non come la RAM, però appunto siccome sono molto vicine alle CPU, sono molto veloci in lettura e scrittura, quindi per ottimizzare l'esecuzione si tende a utilizzare questi registri. E quindi anche qui consiglio sempre di lasciare il secondo numero pari a due. Il terzo è la funzionalità forse più interessante, almeno per questa introduzione, che è il triggering, cioè quando dire al just-in-time compiler di effettuare la traduzione del codice in linguaggio macchina. L'opzione numero tre, il valore tre indica che c'è un processo di profilazione, cioè quello che fa il just-in-time compiler va a contare il numero di funzioni eseguite all'interno della vostra applicazione e va a compilare solo quelle che è più hot, cioè quelle più utilizzate fondamentalmente. Quindi il just-in-time compiler ha al suo interno un microprocesso di profilazione che fa proprio una statistica, va a vedere quali sono le funzioni più utilizzate nel mio flusso di codice e in quel caso le va appunto a tradurre nel linguaggio macchina. Qui vedremo nella slide successiva che ci sono varie possibilità di fare trigger, questa diciamo è quella più utilizzata fondamentalmente. poi c'è un ultimo livello di ottimizzazione che nel caso specifico il valore 5 che è sulla procedura di analisi e i tipi di interferenza, però questa diciamo di inferenza, queste diciamo sono cose diciamo un po' più specifiche che non vedremo in questa presentazione. Quello di cui mi interessa darvi notizie è appunto il trigger, noi abbiamo visto soltanto il valore 3, quindi soltanto come fa il just-in-time compiler a fare questa profilazione e compilazione soltanto delle funzioni più utilizzate. In realtà ci sono varie modalità, potete anche decidere guarda per favore just-in-time compiler compilami tutte le funzioni al primo caricamento dello script oppure compilami tutte le funzioni alla prima esecuzione, cioè quando vengono eseguite le funzioni tu le compili e le traduci in linguaggio macchina. L'opzione 2 è una profilazione sulla prima richiesta e compilazione delle funzioni più richieste più utilizzate alla seconda richiesta, quindi come vedete è possibile proprio andare a fare il tanning del just-in-time compiler con un dettaglio veramente notevole. Il terzo è quello che abbiamo già visto, il quarto è una funzionalità secondo me molto interessante, soprattutto perché sviluppa librerie, framework, appunto chi sviluppa progetti open source, perché è quella di dire ok io voglio, decido io lato appunto sviluppo, quale funzione rendere disponibile il linguaggio macchina al just-in-time compiler, quindi quale funzione dare impasto al just-in-time compiler, quindi sono io che sviluppo l'applicazione, che decido quale funzione far eseguire utilizzando appunto il linguaggio macchina e quindi banalmente farlo eseguire in maniera più veloce sostanzialmente. Questo viene fatto tramite un commento, utilizzando appunto lo standard phpdoc, utilizzando appunto il tag at jit, quindi se in una funzione, prima della funzione, nella sezione dei commenti, mettete questo tag chiocciola jit, state informando al just-in-time compiler che volete che quella funzione venga tradotta in linguaggio macchina, quindi venga manipolata, venga gestita dal compilatore. Allora se vi state chiedendo quali sono i benefici di tutta questa architettura del just-in-time compiler con php8, ho fatto un semplice benchmark, ho utilizzato lo script presente nei sorgenti del php, quindi sotto la cartella zend se provate a scaricarvi i sorgenti del php su github, php-src, questo è il nome del progetto, all'interno della cartella zend c'è un file chiamato bench php che non fa altro che generare una serie di benchmark, quindi sostanzialmente dei cicli for, costruisce degli array, costruisce degli oggetti, giusto per vedere, per testare la velocità di esecuzione del linguaggio. Allora, quindi in questo grafico ho sostanzialmente riportato vari test di questo script con il php 7.4, il php 7.4 con l'op cache, il php 8 e tra parentesi il test che ho fatto io, questo benchmark che sta eseguito a marzo, quindi sarebbe interessante anche rifarlo più avanti nel tempo per vedere un attimo com'è l'evoluzione nel frattempo, comunque non mi attendo grosse modifiche a livello di performance, poi il penultimo grafico è relativo al php 8 con l'op cache e l'ultimissimo è col just in time compiler, vedete che sull'asse delle Y sono riportati i tempi di esecuzione in secondi, il php 7.4 e il php 8, vedete che il php 8 di fatto è più veloce del php 7.4, senza ovviamente utilizzare l'op cache, quindi la prima esecuzione di uno script php, il php 8 è più veloce del php 7.4, questo è un segnale positivo che fa intuire come gli sforzi che si stanno facendo nelle release successive del linguaggio sono sempre quelli di cercare di migliorare le performance, che non è assolutamente banale, soprattutto quando c'è tutta una community php che vi chiede di aggiungere nuove funzionalità, quindi immaginate voi avere un progetto già di per sé grande perché i sorgenti php sono appunto diversi centinaia di file scritti poi tra parentesi in C, quindi sicuramente un linguaggio di basso livello, di non semplice diciamo utilizzo e vi chiedono appunto di aggiungere nuove funzionalità magari anche di alto livello ma di allo stesso tempo di avere delle performance migliori rispetto alla versione precedente è sicuramente un grosso risultato, quindi il php 8 è sicuramente più veloce del php 7.4, ovviamente abilitando la cache sono praticamente identici nel senso che la cache lavora allo stesso modo, quindi l'hop cache potete capire adesso che ho spiegato come funziona l'hop cache, immagino che sia abbastanza ovvio questo risultato, che appunto i due siano del tutto simili, col just in time compiler ovviamente si ha un notevole miglioramento, quindi quasi due volte più veloce lo sarei dire, ma questo perché lo script che stiamo testando, il bench php fa proprio, è molto CPU intensi adesso vedremo un attimo di capire meglio che cosa significa questa parola. Comunque sicuramente il just in time compiler come ci aspettavamo che sia utile generando direttamente codice in linguaggio macchina riesce appunto a eseguire banalmente il codice in maniera più veloce. Ok, questo è tutto molto bello perché di solito i benchmark sono fatti appunto su un caso specifico, quindi nel nostro esempio questo semplice script bench php studiato apposta per testare il linguaggio, ma noi siamo interessati per esempio ad un ambito di utilizzo reale, quindi ci possiamo chiedere data un'applicazione php qualsiasi, faccio sempre l'esempio di wordpress perché nel bene o nel male è l'applicazione php più utilizzata al mondo e quindi wordpress utilizzando php 8 il just in time compiler gira più velocemente o no? Questa è una domanda che probabilmente possono fare tutti e la risposta è questa, fondamentalmente anche in maniera diciamo sorprendente oserei dire, con il just in time compiler non si ha un miglioramento di performance con wordpress. Quindi il php 8 senza il just in time compiler su una wordpress può gestire per esempio 190 richieste al secondo. La stessa piattaforma con il just in time compiler e con questa configurazione del parametro ctro, quello che ho spiegato in precedenza, col valore 1235, fa 160 richieste al secondo. Quindi in realtà col just in time compiler è più lento rispetto al non utilizzo di un just in time compiler. Questo perché? Perché fondamentalmente wordpress non è un'applicazione cpu intensive, cioè non fa molti calcoli, non utilizza molto la cpu, fa moltissimo io, fa richieste al database MySQL, fa delle stampe, va a leggere dei file. Quindi tutte queste richieste IO in realtà aggiungendoci un ulteriore step che è quello del just in time compiler vanno solo ad aggravare i tempi di esecuzione perché se torniamo alla slide in cui spiegavo il flusso del just in time compiler vedete che nel just in time compiler sostanzialmente abbiamo aggiunto questa parte qui, quindi il codice che deve essere eseguito in più, quindi la compilazione del just in time compiler e anche questo branch qui fondamentalmente. Quindi abbiamo più istruzioni da eseguire. Il vantaggio di avere il just in time compiler è quello di dire ok se effettivamente l'applicazione è cpu intensive allora sicuramente ci saranno dei benefici perché banalmente un ciclo, una somma, una moltiplicazione utilizzando la traduzione a basso livello linguaggio macchina è sicuramente più veloce rispetto a un'interpretazione dello zend engine su un opcode. Questo è abbastanza ovvio. Però sorprendentemente appunto WordPress non è cpu intensive, non sorprendentemente, cioè WordPress non è cpu intensive quindi l'aggiunta del just in time compiler non va assolutamente a migliorare la situazione. Possiamo riottenere un risultato simile al PHP 8 senza il just in time compiler giocando un po' con questi valori. Però alla fine della fiera appunto il just in time compiler non è assolutamente la soluzione per applicazioni che non sono cpu intensive. Se vi interessa appunto conoscere meglio i dettagli di questo benchmark ho riportato qui il riferimento appunto di questa presentazione su PHP 8, dove ci sono appunto tutti i dettagli. Poi se siete interessati potete andarlo a vedere. Io adesso quindi non ho fatto benchmark con altre applicazioni reali, non l'ho fatto per esempio con Laravel, con Symfony, con Zen Framework per cercare di capire come l'impatto che ha. Però non mi aspetto appunto, mi aspetto che siano più o meno gli stessi. Nel senso che se è un'applicazione web classica con molto IO, chiamata DB, servizi eccetera, con poco cpu intensive non credo appunto che il just in time compiler possa darvi dei benefici. Però se avete delle routine, delle applicazioni specifiche che sono molto cpu intensive, perché ne so, generazione di PDF, esportazione, elaborazione di file, anche file immagini o anche applicazioni adesso appunto si parla molto di machine learning anche in PHP iniziano a vedersi i primi progetti per esempio c'è questo PHP ML, questo progetto per fare machine learning in PHP, lì sicuramente il just in time compiler è sicuramente interessante perché lì sicuramente si avranno dei benefici in termini di performance. Quindi nel caso di applicazioni cpu intensive, il just in time compiler è sicuramente una cosa interessante. Nel caso di applicazioni IO, quindi che utilizzano molto IO, non ha molto senso utilizzare i just in time compiler. Ok, quindi abbiamo visto in questa prima parte, abbiamo parlato sostanzialmente del just in time compiler, della funzionalità più interessante del PHP 8, adesso vedremo funzionalità minori ma non meno interessanti. una tra tutte che mi rende particolarmente contento è la union type, cioè finalmente in PHP potremmo definire che una variabile, una proprietà di una classe eccetera, può avere più tipi. Sapete adesso col PHP 7.4 possiamo anche definire i tipi finalmente, potrei dire, nelle classi delle proprietà, quindi possiamo dire che per esempio un dollar on number è un tipo intero, però se dollar on number per esempio abbiamo necessità di avere, di utilizzare anche tipi in virgola mobile, possiamo per esempio dire al linguaggio con union type che la proprietà dollar on number può essere un intero o un tipo float. vedete qui c'è il pipe, l'istruzione, la barra, il pipe, per indicare appunto più possibilità. Quindi è sicuramente una cosa interessante e questa cosa la potete definire oltre che per appunto le proprietà di una classe, anche per il ritorno di tipo, cioè potete dire che il get number in questo caso restituisce un valore intero o un valore a virgola mobile. Se siete interessati ai dettagli ulteriori, per ogni funzionalità che adesso vi sto facendo vedere c'è l'RFC, quindi cliccando qui andate a vedere il dettaglio dell'RFC. Un altro aspetto interessante del PHP 8 sono l'introduzione della proprietà static su return type, quindi è possibile definire un risultato di una funzione come static. Qui c'è un esempio, abbiamo una classe A in cui c'è un costruttore che accetta appunto dei parametri in ingresso e poi memorizza in una proprietà della classe e poi c'è un'altra funzione, create, tipo pubblico, vedete che restituisce un valore tipo static. Che significa static? In questo caso static significa che l'oggetto restituito deve essere di tipo A, cioè del tipo della classe sostanzialmente. e all'interno della proprietà della funzione create c'è semplicemente un return new static dollar params, quindi vado a distanziare una nuova istanza, vado a creare una nuova istanza della classe A. Poi abbiamo una classe B che estende la classe A. Proviamo a creare un oggetto B, quindi facciamo new B, e poi proviamo a creare, quindi a richiamare la funzione create sulla classe B, passandogli per esempio dei parametri in un array XY. Se facciamo il vardambitolo result, ovviamente ci aspettiamo che il risultato sia un oggetto di tipo B, perché abbiamo invocato l'oggetto, abbiamo creato un oggetto B, i cui parametri siano appunto XY. Quindi il vantaggio di avere questo static nel return type qual è? È quello di garantire che il risultato di una funzione sia lo stesso della classe corretta, quindi nel caso per esempio di B sia B, nel caso di A sia A. Questo può essere utile soprattutto se utilizzate per esempio delle interfacce cosiddette fluenti, le fluid interfaces. Cosa sono le fluid interfaces? Sono delle classi, delle interfacce, che restituiscono, quindi che fanno qualcosa, ovviamente in questo caso la classe A ha un metodo do whatever, fa appunto qualcosa, il risultato è in tipo static, quindi qui ci sarà tutta la business logic della funzionalità do whatever, e alla fine restituisce l'istanza stessa della classe. Per evitare qui di dover scrivere A, per esempio, al posto di static, io qui avrei potuto scrivere A come nome della classe, avrei potuto scrivere self, ma self, se avessi scritto self, ci possono essere problemi nel caso in cui io vado ad estendere la classe in un'altra classe, perché il self fa riferimento alla classe padre, non alla classe figlio. Quindi scrivendo static io sono sicuro che anche cambiando banalmente il nome della classe, mi restituirà sempre l'istanza della classe risolta appunto a runtime. Quindi nel caso specifico dell'esempio faccio dolor.a new.a e vado a richiamare il metodo do whatever e il risultato sarà identico all'istanza della classe A, appunto perché le interfacce fluenti vengono implementate in questo modo. Perché si utilizzano le interfacce fluent interfaces? Perché io posso aggiungere qui in cascata una serie di esecuzioni di metodi senza dover appunto utilizzare delle, sostanzialmente per scrivere in maniera, per concatenare l'esecuzione delle varie funzioni, senza dover appunto scriverle su righe separate. Questa è una cosa che, poi qui c'è un dibattito, ci sono molte persone a cui non piace questa cosa per vari motivi, ma appunto non vogliono iniziare il dibattito sicuramente adesso. Un'altra funzionalità molto interessante sono quella delle weak maps. Cosa sono le weak maps? Sono delle mappe deboli, diciamo tradotto in italiano potrebbe suonare in questo modo. Che cosa servono? Servono per creare appunto delle mappe, quindi banalmente degli array associativi, immaginiamoli in questo modo, dove l'oggetto quindi che io vado a inserire nella mappa, nel caso in cui venga eliminato, quindi se io faccio l'anset dell'oggetto che è presente in una weak maps, la weak maps si accorge che l'oggetto non è più in memoria e elimina da sola il riferimento. Quindi immaginate un array associativo dove mettete dei valori dentro e nel caso in cui togliete, eliminate questi valori, quindi fate l'anset di un riferimento, quindi non della weak maps, dell'oggetto che punta all'interno della weak maps, anche la weak maps elimina l'elemento, la chiave. Qui c'è un esempio, creiamo, quindi weak map viene in PHP 8 data come una classe, appunto chiamata weak map, io creo questa mappa, poi creo un oggetto qualsiasi, qui appunto una standard class, quindi una classe sostanzialmente vuota, e do per esempio all'interno della dollar map, metto l'oggetto come chiave e un valore 42, quindi faccio per esempio il var dump e mi viene fuori una cosa di questo tipo, cioè che ho una chiave che è appunto l'object della standard classe, il cui valore è 42. Se faccio l'anset di obj, quindi del valore del riferimento della chiave, e poi provo a fare il var dump di map, map mi dà un risultato vuoto, perché? Perché avendo fatto l'anset di obj, il riferimento della chiave obj nella weak maps non c'è più, perché appunto l'oggetto non esiste più, e quindi la mappa sarà vuota. Questa è una funzionalità molto utile, per esempio nel caso in cui implementate dei sistemi di cache, perché non c'è più il problema di invalidare la cache fondamentalmente, nel senso che immaginate di avere una classe fu, di voler implementare una cache interna di questa classe utilizzando una weak map, e avete una funzionalità che volete mettere in cache, quindi per esempio get something with cache, dove c'è appunto un oggetto che passate come parametro, e qui sostanzialmente cosa potete fare? Potete, la prima volta viene eseguita la logica, quindi per generare il valore, diciamo, dell'oggetto, e poi lo mettete nella cache. Quindi io qui ho usato anche, con l'esempio un nuovo operatore del PHP 7.4, chiamato Null Coalishing Assignment, che serve proprio per, diciamo, scrivere in maniera più veloce, una serie di istruzioni, che sono sostanzialmente queste. Nel caso in cui, dollaro, disk, cache, obj, esista, allora io restituisco direttamente il suo valore. Nel caso in cui non esista, cosa faccio? Vado a eseguire il something, un'altra istruzione, quindi in questo caso, this something expensive obj, quindi qualcosa che richiede tempo, ovviamente l'obiettivo della cache è quello di ridurre il tempo. Una volta che ho il risultato, lo assegno automaticamente, utilizzando questo operatore, appunto, Null Coalishing Assignment, in dollar cache obj, e restituisco il valore. Quindi come potete immaginare, diciamo, questa singola istruzione, poteva essere scritta con altre due, tre righe. Però diciamo appunto, visto che abbiamo questa nuova funzionalità disponibile in PHP 7.4, possiamo usarla. In questo modo, quando l'oggetto obj viene eliminato, per qualsiasi motivo all'interno della mia business logic, non devo andare a invalidare la cache, perché automaticamente la weak maps elimina il riferimento a dollar disk cache obj. Quindi sicuramente è una funzionalità interessante. Altra cosa utile, qui c'è poco da dire, è nel PHP 8 c'è la possibilità di utilizzare l'operatore 2.2.class sugli oggetti. Quindi immaginate di avere un oggetto, di solito l'operatore 2.2.class si utilizza con i nomi delle classi, con il namespace, per evitare appunto di scrivere tutto il namespace. Io, se ho direttamente il nome della classe, faccio 2.2.class, e lui risolvere nel full namespace. Questo è l'ambito di utilizzo. Non era possibile farlo sugli oggetti. Adesso col PHP 8 è possibile. Quindi se avete un oggetto dollar object di qualsiasi tipo di classe, fate dollar object 2.2.class, lui vi restituisce il nome della classe fondamentalmente. Nel caso in cui l'oggetto sia nullo, il riferimento a 2.2.class vi restituisce un type error. Ovviamente, niente da aggiungere qui. Ultima funzionalità che vi voglio appunto presentare sul PHP 8 sono questa interfaccia, la stringable interface. Che cos'è? È una semplice interfaccia con un metodo pubblico che è l'underscore, underscore to string, che restituisce una string. Quindi come dice la parola stessa, è un'interfaccia per fare in modo che una classe sia, che possa restituire un oggetto di tipo string. La cosa interessante è che questa interfaccia, se voi implementate qualsiasi classe che avete già, che implementa già il metodo underscore, underscore to string, automaticamente il PHP 8 aggiunge a quella classe l'interfaccia stringable. Quindi per lui quella diventa una classe stringable, cioè che può essere tradotta come stringa, che poi il risultato può essere una stringa. Quindi se fate il casting di quella classe con string, quella è la funzione che viene invocata. Quindi sicuramente questa è una cosa utile perché possiamo stabilire a priori se una classe può essere tradotta come stringa utilizzando appunto questa nuova interfaccia del PHP 8. Ok, parliamo un attimo delle release date. Diciamo la data prevista attualmente, quella ufficiale, che sappiamo che abbiamo per certo, è la feature freeze. Cioè il 28 luglio di quest'anno il PHP 8 bloccherà le feature. Nel senso che dal 28 luglio non sarà più possibile aggiungere nuove funzionalità al PHP 8.0, quindi la prima release. Quindi la feature freeze è il 28 luglio. Quindi fino al 28 luglio ci possono essere, diciamo, aggiunte di nuove funzionalità. E se siete interessati vi consiglio di andare sull'RFC del progetto PHP.net per vedere appunto tutte le cose di cui stanno discutendo e alcune sono ancora in votazione. La data di rilascio certa non c'è ancora. Nel senso che è stato detto che sarà dicembre 2020. Quindi ci possiamo aspettare anche gennaio 2021. Non è una data precisa. Però di solito negli ultimi anni i rilasci di PHP stanno, visto appunto che è stata questa rinascita, questo movimento nuovo di rinascita sul PHP 7, sicuramente mi aspetto che tra dicembre massimo gennaio 2021 uscirà il PHP 8. Come ultima slide ho messo dei riferimenti che vi consiglio di andare appunto a consultare nel caso siete interessati a approfondire alcune tematiche, soprattutto diciamo il Just in Time Compile, che è un po' la novità più importante. Vi ringrazio della vostra attenzione. Se volete scrivervi al Pug Torino utilizzando Meetup, se volete contattarmi, questo è il mio account Twitter. Grazie a tutti. Grazie mille Enrico per il tuo intervento. Abbiamo un po' di domande, ma giusto un pochettino. Quindi inizio da quella più grande votata. Sì. Allora, abbiamo novità sui generics. Sì, attualmente non ci sono, nel senso che ci sono state le proposte, ma non mi risulta che ci siano delle discussioni che stanno portando da nessuna parte. quindi, diciamo, sarebbe molto interessante, molto utile avere generics in PHP 8, ma non credo che ciò avvenga nella 8.0. Però, ripeto, c'è ancora tempo. Il 28 luglio è ancora una data di mai dire mai. Poi abbiamo, puoi fare un esempio di applicazione PHP CPU intensive? Sì, allora, un esempio di applicazione CPU intensive è, per esempio, un'applicazione che fa banalmente diversi calcoli, quindi che utilizza istruzioni CPU. Quindi, per esempio, il machine learning sicuramente è CPU intensive. C'è questo progetto molto interessante chiamato PHP ML, PHP dash trattino ML, potete dare un'occhiata, è una prima libreria per fare machine learning in PHP, sta avendo, diciamo, un discreto successo. E lì sicuramente ci sono tanti calcoli, perché appunto i algoritmi di machine learning sono basati su tantissimi calcoli. Quindi, quello è un esempio. Il processo di immagini, se avete qualche script PHP che va a generare delle immagini, anche lì è CPU intensive. Fare il rendering dei PDF, probabilmente anche lì, è CPU intensive. Importazione e esportazione di grandi quantità di numeri con calcoli, anche lì è CPU intensive. Quindi, ce ne sono tante. Non sono quelle più frequenti in PHP, perché PHP è un linguaggio nato principalmente per il web, quindi per spostare cose, per fare richieste ADB, per fare cicli nei risultati, ma non nasce come linguaggio prettamente più intensive. Quindi questo apre anche le porte verso nuove applicazioni in PHP. Quindi, questo just in time compare, PHP 8, secondo me potrà portare nuova linfa ulteriore al PHP. Grazie. Altra domanda. Molto interessante la parte di compilazione del codice, ma in questo modo è anche possibile capire se il codice è ottimizzato e velocizzare l'esecuzione? In linea teorica, sì. In ambito pratico è molto difficile, perché dall'esempio che vi ho fatto vedere io, uno semplice ciclo for genera quasi un centinaio di linee di codice e linguaggio macchina. E quindi capire come puoi ottimizzare il linguaggio macchina o capire come migliorare il PHP dato il linguaggio macchina è sicuramente complicato. Ci sono dei progetti che fanno, che lavorano non sul linguaggio macchina, non sul JIT, ma sull'opcode. Quindi vanno a analizzare l'opcode generato e danno dei consigli a livello di PHP, ma sono ancora sperimentali. Mi aspetto, vista anche il trend più professionale del PHP in questi ultimi anni, quindi tutta una serie di funzionalità, librerie tipo, non so, PHP, stand, giusto per fare un nome, che fanno l'analisi statica del codice, quindi vanno a vedere, danno dei consigli su come migliorare il codice PHP senza doverlo eseguire, quindi analizzando semplicemente il codice, che questi strumenti, anche grazie appunto all'inserimento di queste nuove funzionalità del linguaggio, del just in time compile, ci siano, vengono sviluppate ulteriormente, quindi in un prossimo futuro io mi aspetto, diciamo, un innalzamento anche dei tool dell'ambiente di sviluppo del PHP, cosa che tra parentesi sta già avvenendo, perché se analizziamo quello che c'è attualmente nella community PHP a livello professionale, per lo sviluppo di applicazioni professionali, quindi medie, anche grandi e grandissime dimensioni, ci sono già una serie di tool molto molto interessanti per fare CIE, unit testing, appunto analisi statica del codice, analisi della sicurezza e così via, quindi è sicuramente un linguaggio che sta crescendo molto in questi ultimi anni. Ok, adesso una domanda che dice, che differenza c'è tra PHP 8 e, spero di leggerlo bene, HHVM? Sì, l'engine creato da Facebook per eseguire applicazioni PHP, in realtà è fino a PHP 5, perché dopo Facebook è passata, ha creato un proprio linguaggio EC, che era un linguaggio, che è un linguaggio diciamo molto simile al PHP con l'aggiunta dei tipi, quindi la tipizzazione delle variabili, delle proprietà di classe è l'aggiunta di un just-in-time compiler e l'aggiunta dei generics, diciamo detto in tre secondi, quindi è interessante perché loro l'hanno fatto anni fa, adesso il linguaggio PHP 8 sta arrivando esattamente a quello, perché avrà il just-in-time compiler, i tipi li abbiamo già con il PHP 7.4 e forse avremo anche i generics, quindi in realtà secondo me PHP 8 8.1 8.2 sarà praticamente uguale a livello di funzionalità a HHVM, poi a livello specifico le differenze ovviamente bisogna andare a vedere come l'hanno implementato per esempio il just-in-time compiler perché per esempio il PHP 8 utilizza Dynasm che è un progetto del linguaggio LUA, un progetto appunto un linguaggio open source e quindi diciamo quella parte lì è stata presa da Dynasm mi sembra che l'HHVM utilizzi un altro strumento per fare la traduzione linguaggio Mac comunque questi sono dettagli implementativi molte della favore Facebook ci aveva visto aveva insomma visto lungo nel senso che le funzionalità che attualmente ha il linguaggio hack sono quelle che si stanno aggiungendo pezzo pezzo al PHP quindi il PHP 8 praticamente sarà un HHVM senza i generics o forse con i generics vediamo come vanno in questi ultimi cosa accadrà in questi ultimi mesi ok un'altra domanda il JIT beneficia del opcache preloading o viceversa il JIT beneficia dell'opcache preloading o viceversa sì in realtà come abbiamo visto anche nel diagramma il il JIT lavora a livello di compilazione ma va a scrivere nell'opcode questo è il diagramma di cui stavo parlando vedete il JIT va lavora in simbiosi col processo di compilazione ma va a scrivere nell'opcache quindi in realtà sì nel senso che io posso anche prestabilire a priori che una funzionalità deve essere JIT per esempio mettendo chiocciola JIT utilizzando quell'opzione che vi ho fatto vedere e poi dicendo che il contenuto diciamo di quella classe deve essere messa nel preloading fondamentalmente quindi cosa vado a fare vado a forzare quella classe quello script nella cache e poi specifico che quella particolare funzione o più funzioni o tutta devono essere compilate attraverso il JIT quindi sì ci può essere un utilizzo della funzionalità di preloading sicuramente ok poi abbiamo le optimization del JIT messe via doc e si possono sovrascrivere penso al caso in cui le configurazioni sono impostate in maniera errata perdendo performance se ho capito bene la domanda una volta che definisci quelle opzioni non le puoi variare nel senso che sono quelle e quindi se le vai a variare in qualche modo vai a cambiare le modalità con il quale il tuo PHP viene eseguito il consiglio che do io è quello di sicuramente approfondire bene con il manuale le funzionalità delle varie le varie opzioni e poi provare a fare dei test perché solo con le applicazioni solo con la tua applicazione specifica puoi capire se hai dei vantaggi o meno con il con il JIT banalmente quindi diciamo teoria sì ma molta pratica cioè provare a a fare dei test è l'unico l'unica cosa che consiglio di mi sento di dire poi abbiamo le weak map sono paragonabili come a un realloc del C sugli array spero di aver detto bene realloc del C sugli array sì in realtà utilizzano mi sembra proprio un approccio mi sembra di sì ho iniziato a vedere il codice sorgente ma non non mi sono adentato comunque diciamo a livello di funzionalità sì fondamentalmente sono possono essere tranquillamente implementate con i realloc del C noi abbiamo una domanda che chiede come vedi il futuro del PHP rispetto ad altri linguaggi esempio Python molto votata questa ok premesso che sono leggermente di parte nel senso che appunto ho lavorato per più di undici anni con l'azienda technologies appunto facevo il PHP ho scritto framework in PHP librerie continuo a sviluppare in PHP nonostante la barba bianca quindi fatta questa premessa il futuro del PHP lo vedo abbastanza rosio nel senso che basta banalmente andare a vedere i rilasci che sono stati fatti negli ultimi anni quindi siamo passati al PHP 7 tutti i rilasci verso il 7.4 anche il rispetto delle date dei rilasci perché una volta per chi appunto come me ha la barba bianca ha iniziato io ho iniziato con PHP 3 dal 3 al 4 al 5 i rilasci erano qualcosa di molto lasco per non dire usare qualche parola più offente stiamo registrando quindi non posso usare parole bad words e quindi anche banalmente andare a vedere l'evoluzione del linguaggio e appunto questo incremento nei rilasci la puntualità nei rilasci queste feature sempre più enterprise tra virgolette quindi la tipizzazione just in time compiler anche il numero di persone banalmente che lavora pagate perché attualmente appunto a parte l'azienda tecnologica c'è anche JetBrains che è la società appunto che sponsorizza il progetto PHP con Nikita che appunto è uno dei core attualmente molto attivi nello sviluppo del linguaggio fa capire che c'è un investimento forte su questo e quindi sicuramente il PHP con l'aggiunta poi di queste nuove funzionalità con la PHP 8 eccetera è sicuramente un linguaggio che avrà una nuova rinascita a mio avviso soprattutto per esempio il machine learning Python lo vedo più ormai diciamo legato al mondo del machine learning all'intelligenza artificiale perché? perché banalmente tutti le università del mondo sviluppano funzioni e moduli in Python per quello anche il lato web comunque sta crescendo però il PHP ha un installato diciamo superiore anche le performance proprio del linguaggio rispetto al Python sono a livello di interpretazione e esecuzione del codice sono superiori quindi si fa il confronto con il PHP anche 7 il Python 3 il PHP 7 è molto più veloce di Python 3 ecco perché mi aspetto anche una nuova rinascita nel lato CPU intensive avendo appunto un GIT adesso con il PHP quando avremo appunto il PHP 8 probabilmente vedremo più applicazioni anche di machine learning però il Python comunque ormai è un linguaggio consolidato nel mondo del data science ecco lo vedo ripeto si utilizza anche in ambito web sicuramente ma PHP è più per il web almeno lo stato attuale ok poi abbiamo ancora la classe WIC map è una conseguenza della WIC reference di PHP 7.4 se sì si potrebbe realizzare lo stesso esempio che hai fatto in PHP 7.4 sì tendenzialmente direi di sì però visto che appunto abbiamo una classe che lo fa per noi a livello di C diciamo perché non usarla però sono d'accordo con te cioè avendo delle WIC reference io potrei anche mettermi a implementare la mia direttamente in PHP ultima domanda poi ti lasciamo andare allora JIT può essere abilitato o disabilitato dalla configurazione di JIT quindi sei tu che decidi se averlo o meno di JIT non so se ha senso non ho capito bene come domanda diciamo diciamo che JIT è configurabile vi ho fatto vedere appunto che c'è quella l'opzione dove vai a specificare quando il JIT deve tradurre come deve tradurre e c'è anche la possibilità secondo me quella molto più interessante cioè quella più interessante a mio avviso è quella di utilizzare questo marcatore nei commenti questo PHP comment che appunto ripeto è chiocciola JIT che va a dire che quella funzione deve essere tradotta in linguaggio macchina quindi poi ti puoi inventare i tuoi i tuoi modi per configurarlo però fondamentalmente già col PHP 8 il JIT offre tantissime funzionalità di configurazione cioè veramente configurabile fino al più piccolo dettaglio ok allora ti comunico che ci sono un sacco di complimenti che ti ringraziano un sacco di persone ci dicono anche che il tuo libro è un must e c'è una persona che dice quindi ci sarà una nuova edizione di sviluppare in PHP 8 non lo so perché scrivere un libro è veramente una cosa al posto di si più intensi è time intensive notevole e quindi non so mi piacerebbe sicuramente scrivere qualcosa sul PHP 8 magari fare anche solo un aggiornamento con just in time compiler perché solo parlare in dettaglio del just in time compiler io qui in questa presentazione ho dato un po' un inizio ho fatto giusto capire che cos'è come funziona ma ripeto è veramente un mondo ce ne sarebbe da parlare per ore e ore quindi sicuramente se riuscirò a trovare il tempo mi piacerebbe scrivere anche cambierò il colore perché sono passato da blu a verde non so passerò a rosso PHP 8 se accettano suggerimenti bene